Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. Qualcuno può pensare che sta parlando di guerra di religione, no. Tutte le religioni vogliamo la pace, la guerra la vogliono gli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La gioventù sempre ci dice speranza. Speriamo che i giovani ci dicano qualcosa che ci dia un po' più di speranza.